Comunale Pietro Cangemi di Torre Grotta, amici di UiSport, un cordiale saluto e bentrovati con le fasi regionali del campionato Under-14, ottavi di finale di ritorno tra Torre Grotta e New Team Catania, dopo che la formazione di Mister Borelli nel match di andata si è imposta 3-2 in terra etnea. Vediamo allora come i due tecnici Giuseppe Borelli e Umberto Fabiano hanno schierato le rispettive formazioni, partiamo dai padroni di casa, Sciripoti, Antonazzo, Gitto, Benda, Ucazzara, Cuti, Spoto, Gangemi, Pino, Godwin, Barresi, Loria, New Team con Guardone, Puglisi, Arcidiacono, Balestri, Barbagato, Fetta, Calvagna, Santo Anastasio, Cala, Racca e Mascara. Si parte col film del primo tempo, 8 minuti, il pallone arriva a Barresi, lavora bene la sfera, si gira ma calcia sul fondo al dodicesimo, Godwin dal centro-sinistra passa in mezzo a due avversari, il pallone poi torna all'indietro, ancora da Barresi che cerca spazio per il tentativo con il destro, viene sventato da Guardone. Minuto 20, il Torregrotta continua a spingere, vuoli, gol, qualificazione, ricordiamo il risultato d'andata di 3 a 2, Antonazzo, Duetta con Godwin in area di rigore, la conclusione tra le braccia dell'estremo difensore Guardone. Minuto 25, il pressing del Torregrotta, finalmente dai suoi frutti con Loria che parte dalla metà campo, un difensore sporca il possesso, la sfera arriva a Barresi in area di rigore, il tentativo di finta è quello giusto all'indietro, si va da Loria che trova il gol dell'1 a 0, il Torregrotta sblocca il risultato, il Pietro Gangemi a 10 minuti dalla fine del primo tempo, non succede più nulla, si torna negli spogliatoi, il Torregrotta vede sempre più concretamente il passaggio del turno dopo il 3 a 2 dell'andata. Minuto 38, inizia la ripresa con Barresi che lavora bene il pallone, poi cerca il lancio per Loria, posizione dubbia per l'attaccante del Torregrotta, ancora Loria in area di rigore, conclusione che trova Guardone in pieno, minuto 40, Godwin arma in più sugli esterni, stavolta parte dalla destra, Godwin supera l'avversario, mette il pallone in mezzo, Loria piazza la conclusione, super Guardone, ancora protagonista, minuto 42, Gazzara rimessa laterale in area di rigore per Barresi, Barresi deve liberarsi di due avversari, riesce a farlo con l'esterno, la mette dall'altra parte dove Godwin chiude la contesa, 2 a 0 del Torregrotta, adesso sì, i quarti di finale sono a un passo per i ragazzi di Mister Borelli, entrano Adige e Pulito, escono Pino e Loria, minuto 48, ancora Barresi al terzo assist di giornata, fa correre Godwin che è tornato a sinistra, l'ingresso in area di rigore, non ci sono marcature, è troppo semplice allora, trovare la doppietta, il 3 a 0, il Torregrotta è ormai ai quarti di finale nel torneo Under 14, quando tocca la macchia campagna per Gangemi Egitto, minuto 55, Racca ci prova, Godwin sulla linea, dice di no, importante in difesa, importante in attacco, l'esterno di Mister Borelli, minuto 58, prova a sfondare il Torregrotta, alla fine la macchia cerca il piazzato dove Guardone ci mette una pezza, minuto 60 ancora il Torregrotta con la forza dei nuo entrati, Pulito infatti scappa alla difesa ospite, piazza il colpo del 4 a 0, interessantissimo questo attaccante classe 2010 di Mister Borelli, allora ancora tre cambi, staffetta tra i pali con Bartuccio per Scilipoti, anche in campo Caruso e Presti per Godwin e Barresi, il Torregrotta spinge al 68esimo con Pulito che supera letteralmente tutta la difesa etnea, ancora Pulito, limite dell'area di rigore, se la porta sul destro, leggermente alto sopra la traversa, minuto 70, siamo sul finire ormai del match con Pulito che riesce a trovare spazio per la chance con il destro, Guardone la sfiore e la mette in calcio d'angolo, fine partita al Pietro Cangemini, Torregrotta, 4 a 0 del Torregrotta sulla new team Catania, un parziale che premia la formazione di Mister Borelli che raggiunge i quarti di finale nel torneo Under-14, un bucchiere saluto amici di WeSport, come sempre, alla prossima!